Trapani, città al centro del Mediterraneo, punto d'arrivo e di partenza di diverse civiltà. Usi, costumi, tradizioni intrecciate sine secoli. Culture diverse, ma un unico comune denominatore, la fede religiosa. Da questo miscuglio complesso, spesso doloroso, quindi tutt'altro che pacifico, si concepisce prima e si crea poi un fermento popolare sempre più intenso. Folclore e religione si fondono in una sola cosa, abbracciando con il trascorrere degli anni anche storia e tradizione. Il Venerdì Santo dei Cristiani a Trapani raggiunge la più alta espressione con la rivisitazione figurata della Via Crucis di Cristo, la processione dei misteri. A Trapani raggiunge la più alta espressione con la rivisitazione figurata della Via Crucis di Cristo. A Trapani raggiunge la più alta espressione con la rivisitazione figurata della Via Crucis di Cristo. A Trapani raggiunge la più alta espressione con la rivisitazione figurata della Via Crucis di Cristo. A Trapani raggiunge la più alta espressione con la rivisitazione figurata della Via Crucis di Cristo.